Questa è la carta che andrò a recensire oggi, una delle carte più interessanti che io abbia mai utilizzato, perché ci permette sostanzialmente di unire tutte le altre nostre carte in questa unica carta. Sto parlando di Curve, carta che, dico subito la parola magica, è gratuita. Gratuita. È disponibile nella versione free e può essere utilizzata liberamente, senza canoni mensili e si possono collegare tutti i conti che vogliamo. Oltre al fatto che sia gratis, e già per questo lasciate un bel like al video, se vi registrate utilizzando il link che trovate in descrizione potete ottenere 5 euro bonus gratuitamente che potrete spendere utilizzando la carta Curve. Ci sono mille cose da dire in realtà per quanto riguarda questa carta, che non è solamente un portafoglio di carte, ma ci sono tantissime altre funzioni. Perciò partiamo subito dalla funzione principale, ovvero fungere da carta delle carte, portafoglio delle carte. Per collegare una carta di debito di credito alla carta Curve, dobbiamo semplicemente accedere all'app che è disponibile per iOS oppure Android, attivare la carta tramite l'insedimento di un codice ricevuto per SMS, oppure all'interno di un'applicazione, penso al caso di ANE26, oppure la quantità di importo accreditato su un conto corrente, pensando al mio conto corrente ING. E una volta fatto questo, la carta sarà effettivamente associata al nostro conto Curve. Alcuni mesi a questa parte sto utilizzando praticamente solo la carta Curve, perché mi permette di selezionare il conto che voglio utilizzare di volta in volta, oppure selezionare il predefinito e poi pagare sempre con quello, nel mio caso il conto ING, e senza portare in giro tante carte che in realtà risultano inutili e semmai ingombranti. L'applicazione Curve è veramente semplice in realtà. C'è la sezione account nella quale possiamo visualizzare i dati della nostra carta, oppure bloccare la carta in caso di smarrimento. Possiamo vedere la timeline, ovvero l'elenco delle nostre transazioni. Possiamo vedere il wallet, ovvero il portafoglio dei nostri conti e carte associati alla carta Curve. C'è la sezione send, cioè la possibilità di inviare denaro ad amici o altre persone, e poi la sezione inside, che ci permette di vedere le transazioni effettuate e ci fa dei report per quanto riguarda le spese che abbiamo sostenuto. Come vi dicevo, l'applicazione è veramente semplice. Parliamo dei piani della carta Curve. Sono sostanzialmente tre. Il piano basic, cioè il piano gratuito, quello che secondo me è più interessante per quanto riguarda Curve, ma che non permette di ottenere tutti i vantaggi associati alle potenzialità di questa carta. Infatti il piano gratuito, come tutti gli altri piani ovviamente, permette di ottenere la carta Curve gratuitamente, spedita all'indirizzo che selezioniamo, possiamo scaricare l'applicazione e in più il nostro capitale su Curve sarà protetto fino a un massimale di 100.000 euro. I tre piani di abbonamento a Curve sono quello gratuito, quello premium, che ha un costo di 10 euro mensile, quello ultimate, che ha un costo di 15 euro mensile. In realtà una delle differenze più grandi tra questi tre piani è la possibilità di ottenere un cashback dell'1%, ma su diversi prodotti. Il piano gratuito infatti ci consente di ottenere un cashback dell'1% su ogni spesa effettuata dalla carta Curve su tre negozi a nostra scelta per 90 giorni. Il piano premium ci permette di ottenere il cashback dell'1% delle nostre spese con la carta Curve, ottenendo una carta molto più bella di quella semplice che sto utilizzando io, selezionando tre negozi e non avremo limiti di tempo per quanto riguarda l'ottenimento del cashback, mentre con il piano ultimate otterremo la carta metal, che è sicuramente molto più bella di questa, e in più otterremo un cashback su sei negozi a tempo illimitato, cashback sempre dell'1%. C'è una funzione poi introdotta da poco che si chiama letteralmente evita l'imbarazzo. Questa permette di selezionare tramite Curve automaticamente una seconda o terza carta collegata nel caso in cui la prima carta non dovesse completare un pagamento. Anti-imbarazzo in questo senso, la situazione imbarazzante in cui utilizziamo una carta per pagare e il pagamento non viene eseguito. Stavo ragionando sul fatto che non è mai successa nella mia vita una cosa del genere, però non si sa mai. Invece una funzione molto comoda, secondo me, che ho intenzione di aprire diversi conti correnti da dedicare ciascuno a una funzione precisa. Ad esempio per quanto riguarda un mio investimento immobiliare, voglio aprire un conto corrente che sia esclusivamente dedicato alla contabilizzazione dei movimenti legati ad un immobile. La carta Curve mi permette comunque in caso di mancati fondi nel conto per gli immobili, mancati fondi nel conto ING per le mie spese personali, di utilizzare un'altra carta per quel pagamento e poi spostare entro 90 giorni la transazione dalla carta che ha effettuato il pagamento alla carta che riteniamo corretta per quella transazione. Go back in time quindi essenzialmente ci permette di spostare le transazioni da un conto all'altro liberamente, entro 90 giorni e per un valore totale di 3000€. Con la carta Curve poi è possibile accedere ad un tasso di cambio interbancario senza ulteriori commissioni nel piano gratuito fino a 500$ mensili, mentre non ci sono limiti per quanto riguarda il cambio valuta nel caso di piani ultimate o premium. Anche per quanto riguarda i viaggi all'estero la carta Curve ci permette di prelevare euro o altre valute fino a un valore mensile di 200€ senza pagare commissioni e questo è interessante nel momento in cui siamo in viaggio all'estero e abbiamo bisogno di contanti. Senza pagare commissioni significa risparmiare su una spesa che molto probabilmente con altri conti dovremmo affrontare. C'è inoltre un sistema di sicurezza attivato grazie alla carta Curve che ci permette di ottenere un rimborso nel caso in cui ad esempio un acquisto online effettuato si rivelasse una truffa. In quei casi Curve ci rimborserà la transazione e perciò questo aggiunge un ulteriore strato di sicurezza a garanzia dei nostri soldi. Per poter iniziare a utilizzare la carta Curve quindi non bisogna fare qualcosa di straordinario. Basta semplicemente scaricare l'app, richiedere la carta che arriverà nel giro di una settimana, collegare i nostri altri conti, le nostre altre carte alla carta Curve e poi iniziare a utilizzare la carta Curve con il codice, il nome del titolare della carta, la data e il codice CVV, utilizzare la carta Curve come qualsiasi altra carta per pagare, per fare acquisti. E successivamente potremo già iniziare a ricevere tutti i vantaggi di questa carta. Sinceramente io personalmente non vedo dei lati negativi nell'utilizzo della carta Curve perché comunque si tratta di una carta che è completamente gratuita, nel peggiore dei casi avremo una carta in più senza spendere e ci permette di ottimizzare il nostro tempo, anch'esso una risorsa, risparmiando dal punto di vista dello spazio, portandoci meno carte dietro quando andiamo in giro e anche dal punto di vista della sicurezza. Perdere la carta Curve ci permette comunque di continuare a utilizzare gli altri conti e le altre carte. Questo perché una funzione importantissima secondo me presente nell'applicazione che vi ho mostrato prima è la possibilità di bloccare in ogni momento accedendo all'app la carta Curve. In realtà dal punto di vista della sicurezza utilizzare tutti i conti collegati all'interno della carta Curve è una mancanza di diversificazione se vogliamo per qualsiasi utente perché nel momento in cui la carta Curve dovesse essere smarrita ovviamente tutti i conti collegati saranno in pericolo. È per questo che secondo me è importantissimo che l'applicazione permetta di bloccare la carta Curve in ogni momento. Queste quindi sono le principali funzionalità della carta Curve, una delle carte più interessanti dal mio punto di vista attualmente presenti sul mercato. Voi utilizzate la carta Curve? Fatemelo sapere con un commento sotto al video. Vi ricordo inoltre il link in descrizione che potete utilizzare per ottenere 5€ bonus quando richiedete la carta e per il resto il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un bel like per supportare il canale e se siete nuovi iscrivetevi e attivate la campana di notifica per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.